34 persone sono state denunciate dai carabinieri di Mineo. Avrebbero incassato dal comune, senza averne diritto, dei buoni spesa assegnati nell'ambito di misure di sostegno legate all'emergenza socio-sanitaria. 18 uomini e 16 donne, di età compresa tra i 28 e i 61 anni, sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. I carabinieri di Mineo hanno scoperto che i 34 indagati erano già destinatari a vario titolo di alcuni sussidi pubblici come il reddito di cittadinanza. Indagati avrebbero percevito complessivamente da luglio-ottobre 2020 oltre 11.000 euro.